I viaggiatori troveranno il treno, silenzio ferroviario metropolitano, linea 2, 26, 2, 8, 2, D, Trenitalia per Vinerolo, delle ore 21, al binario 4, regionale veloce 31, 87, D, Trenitalia per Torino Porta Nuova, delle ore 21 e 1, al binario 5, Servizio ferroviario metropolitano, linea 6, 26, 6, 3, 2, D, Trenitalia per Torino Stura, delle ore 21, e 5, al binario 3, Servizio ferroviario metropolitano, linea 2, 26, 2, 8, 2, off, Trenitalia, 2, Binerolo, With schedule departure at 21, at platform 4, regionale veloce 31, 87, off, Trenitalia, 2, Torino Porta Nuova, With schedule departure at 21, 1, at platform 5, Servizio ferroviario metropolitano, linea 6, 26, 6, 3, 2, off, Trenitalia, Torino Stura, with schedule departure at 21, 5, at platform 3. Gentili passeggeri, vi raccomandiamo prudenza nella discesa dal treno. Dear passengers, we advise you to be careful while getting off the train. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.